buongiorno oggi ci troviamo a paradiso per mostrarvi questo locale commerciale di cinque locali e mezzo siamo situati al secondo piano e siamo serviti da un comodo ascensore ora entriamo come potete vedere l'entrata è molto ampia e abbiamo già uno spazio predisposto per il quartaroba questo cinque locali e mezzo è ideale come studio medico ora vi mostro la prima stanza che potrebbe essere adibita a sala di attesa in questo stabile negli scorsi mesi sono stati fatti diversi lavori di ristrutturazione la pavimentazione all'entrata è stata messa in ordine sono state sistemate tutte le porte e sostituite le maniglie qua abbiamo due locali che sono comunicanti fra di loro come potete vedere tutti i locali sono molto ampi e godono di esposizione solare è una superficie che supera i 140 metri quadrati ci troviamo nel cuore di paradiso a pochissimi minuti abbiamo a disposizione tanti servizi negozi alimentari mezzi di trasporto e il facilitato ingresso agli imbocchi autostradali ora vi mostro i bagni qui abbiamo già un bagno predisposto per i visitatori un bagno compreso di lavabo e bc mentre da questo lato abbiamo un bagno predisposto per il personale con con doccia bc e lavabo per terminare abbiamo la cucina abbiamo un ampio locale cucina una cucina che è stata anche questa rimodernata una cucina compresa di lavastoviglie piano cottura in vetro ceramica e forno e frigorifero vi ricordo ci troviamo paradiso questo locale è disponibile fin da subito e se siete interessati contattateci ti affitto